Stiamo per iniziare il 36esimo convegno delle Caritas Diocesane dal titolo Educare alla fede per essere testimoni di umanità. È un convegno che è partito dalla base e ritorna alla base nella sua fase appunto dispositiva, nella sua fase discorsiva e anche nella sua fase propositiva. Ecco, chiediamo a Dio la grazia di poter vivere questi giorni in clima di fraternità e augurando a tutti buon lavoro.